Mr. Sacchi è qua sulle strategie calcistiche è una squadra che è dell'attesa che potrebbe essersi un po' scaricata però abbiamo Diandra che è una ragazza di grandissimo temperamento con una grande voce poliedrica devo dire perché ha fatto mille attività assolutamente sì e vedrete quanto è brava questa ragazza cerchiamo di sorreggerla un po' tutti grazie e quindi è il momento di Fusignano con Mr. Sacchi prego grazie grazie a tutti 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 e tu mi rende essere, make me essere ova un'attura oh 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 yeahuh uhuh uhuh sempreates il vostro nei cinquei ships Come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente Sei innamorato, cosa c'è, cosa c'è che non va Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie, tornoio di sesso E penso in niente, no, non sento niente, no, nessun dolore Non c'è attenzione, non c'è emozione, nessun dolore E penso in niente, no, non sento niente, no, nessun dolore Non c'è attenzione, non c'è emozione, nessun dolore Grazie a tutti.